Io ero tranquilla, a un certo punto sento un po' andante che dice signori scusate, eravamo un po' troppo in piedi, non ci facevano uscire scusate un attimo, le procedure per uscire sono un po' più lunghe perché si è bloccato il portellone mi è partita proprio la testa, l'intrappolamento Benvenuta Giuliana Desio Salve Napoli, che rapporto ti è rimasto con la città? No, a me mi è rimasto poco rapporto con la città di Napoli la mia napoletanità la recupero sempre attraverso l'unica cosa che mi dà la misura del mondo a me che è la mia dimensione di attrice quando lo posso fare per esempio ho recuperato molto Napoli nel più bello spettacolo teatrale che io ho fatto credo nella mia vita, di cui ho fatto 700 repliche che si chiamava Notturno di donna con ospiti di Annibale Luccello che è un grande genio purtroppo deceduto a 30 anni e lì ho sentito forte le radici che urlavano proprio in quel testo lì ho recuperato alcune immagini dei miei nonni ho recuperato alcuni modi di dire ho recuperato insomma quel sentimento forte che è il sentimento della napoletanità che molto spesso però è anche molto coperto di retorica di luoghi comuni di robe insomma che sono spazzatura esattamente come la spazzatura che adesso purtroppo tecnicamente ricopre la città e che chissà quando smetterà di ricoprirla diceva Pino Danieli Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa un po' così è abitavo tra l'altro in un palazzo dove c'era il cinema per cui mia madre mi mandava tutti i giorni al cinema dopo che avevo fatto i compiti a vedere qualunque cosa perché tanto ero lì mi teneva sotto controllo e andavo da sola andavo da sola ma da piccola e sono stata una consumatrice di cinema sana proprio ho avuto una bella educazione sana perché non sceglievo niente cioè andavo a vedere tutto cioè c'è un momento della vita in cui sei talmente secondo me intelligente recettivo in cui comprendi molto a fondo le cose poi magari se le rivedi dopo vent'anni non sono sicura che tu le riesca a comprendere nella stessa maniera negli ultimi anni tu sei più versata verso il teatro la televisione e altre cose le fiction sono un'arma a doppio taglio naturalmente così è però ti danno una popolarità sì, ho capito però la popolarità a una certa età con un pedigree come quello che c'è io probabilmente non basta nel senso che io sono appunto del mio percorso artistico professionale come lo vogliamo chiamare in cui il vero miracolo sarebbe un incontro artistico insomma un incontro un incontro vuol dire un incontro con un testo un incontro con un legista un incontro magari anche con un grande attore una grande attrice un collega insomma qualcosa che intellettualmente faccia scattare quella luce in più perché ormai che siamo capaci di fare il nostro mestiere non ce lo deve di più nessuno diceva Valeria Golino tempo fa in un'intervista aveva ragione le fiction uccidono gli attori è vero diciamo che ci sono attori speciali che riescono a non essere uccisi neanche dalle fiction però sono pochi io io sopravvivo sopravvivo artisticamente cioè sopravvivo esisto cioè non mi lascio mangiare da questi contesti così però ecco mi dispiace che ci sia un conformismo terribile tra chi fa il cinema tra gli autori tra quelli insomma più interessanti così un po' nei confronti di chi poi fa la televisione ti hanno chiamato comici come Troisi come Francesco Nuti io ho avuto un anno che era l'83 mi sembra cinematografico che è stato un anno forte perché è un anno in cui ho girato un giorno proprio attaccati uno retro l'altro tre film che hanno avuto tutti e tre delle storie forti perché ho girato Chopin con Luciano Torisi che era un filmetto prodotto da Rai 3 ma apparentemente senza futuro invece è un film ispirato ben riuscito che andò al Festival di Civa di Venezia e vinse il Leone d'Oro come opera prima subito dopo girai Io Chiara all'Oscuro con Francesco Nuti con la regina di Maurizio Ponzi e immediatamente dopo tipo il sabato finì lunedì cominciai a girare Scusate il ritardo con Massimo Torisi allora il film di Nuti fu il film rivelazione dell'anno che ci fece vincere tutti i premi Davide Donatello che ebbe stetta in prima visione per sei mesi insomma cioè fu un film e il secondo era il secondo attesissimo film di Massimo Torisi dopo il successo di Scusate il ritardo che era stato un fenomeno praticamente e Torisi continuava ad essere un fenomeno lo è stato fino a che purtroppo la malattia non ha avuto il sopravvento su di lui è stato un lutto un lutto emotivo profondo insomma di una persona a cui volevo bene ma anche un lutto proprio un lutto perché io non potevo più ridere con i suoi film per me era un lutto perché io veramente ridevo con i film di Massimo non è che si ride tanto facilmente a me sono pochi quelli che mi fanno veramente ridere e quindi Massimo era uno di quelli lo segui il cinema italiano di oggi? sì abbastanza c'è per esempio un regista che ti piacerebbe che scrivesse una storia per te? ma sono guarda che gente che sa fare il proprio mestiere bene nel nostro nel cinema italiano ce n'è ognuno a suo modo ognuno con la sua caratteristica ognuno c'è chi volete trattare i grandi temi allora quelli più giovani lo sappiamo quelli che sono emersi sono che tra l'altro sono anche i miei amici che sono Matteo Carrone e Sorrentino che sono due forti cioè con due segni molto forti che trattano temi forti e che hanno un linguaggio dei segni anche dal punto di vista visivo forte perché un regista deve essere uno che ha anche un linguaggio di segni cinematografici vedo con piacere che molti di loro soprattutto Sorrentino ma insomma anche tanti giovani si ispirano molto lo sento sempre più nominare a Eliopetri che era un signore che non faceva solo il cinema di impegno politico che è una roba anche riduttiva secondo me rispetto al cinema che è stato quello di Eliopetri cioè il cinema di Eliopetri era un cinema che aveva un sistema di segni di immagini che erano assolutamente sue pittoriche quasi che aveva dei riferimenti culturali profondi che era un uomo che si intendeva di letteratura di poesia di musica di arte in generale di cinema di teatro insomma questo è un regista per me nella commedia Virzi è uno bravissimo cioè Virzi è uno sceneggiatore bravo per un attore è uno bravissimo perché non ti lascia mai solo né sulla carta quando scrive né poi tantomeno dopo quando dirige a me piacciono anche i comici mi piace Verdone mi piace Incerti che è molto bravo adesso per esempio io ho visto gli ultimi due film che ha fatto Tony Servillo come attore sono tutti e due dei bei film sia Gorbachev che quest'ultimo veramente molto interessante La vita tranquilla mi è piaciuto moltissimo insomma abbiamo un cinema nobile anche tu lo scorso anno hai avuto molto successo con il laureato al personaggio maschile nella commedia è stata data una connotazione diversa l'idea è stata tua? Sì io in realtà ho letto il laureato in una chiave tutta mia siccome io quando ho visto il laureato mi è piaciuto il film era un grande film ma soprattutto sono stata folgorata ero veramente piccola perché il laureato non so di che anno è sono comunque piccolina credo di averlo visto pure dopo non proprio quando è uscito folgorata da Mrs. Robinson che mi sembrava il personaggio veramente rivoluzionario del film il vero protagonista del film e quindi naturalmente ho fatto di Mrs. Robinson la protagonista ma senza cambiare niente da quello che era il testo ho fatto la protagonista nel senso che l'ho riempita di significati questa grande nichilista spiritosa simpatica disperata alcolista tabaggista mi è sembrato poi alla fine il personaggio drammaturgicamente più interessante ed è diventata il centro di questa storia il progetto per il prossimo anno è una storia scritta per il teatro da Woody Allen di solitudine metropolitana dopo la guerra in America in un posto proprio degradatissimo una famiglia di disperati pieni di debiti una donna lei con la stima di se stessa sotto i piedi trattata malissimo da un marito che la tradisce in seguito da gli strozzini hanno problemi proprio a mettere il pranzo con la cena questa donna ha due figli uno di 12 anni e un altro di 17 uno è un piccolo del pistello che va a piccare incendi un altro è un ragazzino un po' autistico balbuziente che però fa dei giochi di prestigio straordinari e sta tutto il tempo chiuso nella sua stanzetta a fare i giochi di prestigio quindi il suo sogno è solo quello un giorno questa donna completamente abbattuta dalla vita esce di casa e fa un incontro incontra un agente teatrale un personaggio che sembra molto autorevole ai suoi occhi e lei torna a casa improvvisamente animata da un sogno torna alla vita il sogno è ho un figlio che vuole fare questo nella vita lo abbiamo preso per il culo tutti in famiglia perché fa questo io ho trovato finalmente anche ingenuamente la persona che può fare a mio figlio la carriera che vorrebbe che ci farà diventare tutti ricchi e saremo tutti felici animata da questo sogno si risveglia dalla depressione e per una breve notte il tempo in cui lei organizza per questo figlio una specie di provino in casa in cui in vita cena quest'uomo una serata tragica e i sogni moriranno all'alba ognuno ha la sua mitologia personale gli attori di teatro in genere hanno le mitologie dei grandi personaggi delle grandi eroine shakespeariane delle grandi tragedie greche che insomma hanno alcuni riferimenti i miei riferimenti invece sono pur essendo una teatralmente a quanto avveduta e al corrente però i miei riferimenti continuano a restare quelli delle grandi figure mitologiche cinematografiche quindi quando posso cerco di portare il cinema a teatro pur restando molto fedele a quello che è la dimensione teatrale anche perché è il modo di fare teatro che nel mondo si fa ormai cioè il teatro non è più quello che facciamo noi in Italia nel mondo è cambiato moltissimo noi siamo un pochino indietro e Woody Allen è uno fa parte della mia mitologia cioè Woody Allen ancora adesso che Dio lo conservi per altri 200 anni con tutto il suo pessimismo le interviste in cui dice che vivere è inutile lo adoro adoro il suo pessimismo ecco il nichilismo di Woody Allen io credo che in questo momento qualcuno più nichilista di lui sulla scena cinematografica mondiale non ci sia rilascia delle interviste che sono agghiaccianti però c'è sempre sostenuta da questa grande vitalità della sua intelligenza e del suo senso dell'emorismo senti non voglio entrare nel privato ma col tuo carattere è un po' difficile convivere con te parlo per esempio di uomini nessuno convive con me ecco appunto io però ti ho conosciuto però io trovo ingiusto dire che col mio carattere è difficile convivere con me perché invece poi in realtà convivere con me realmente per quelli che l'hanno fatto che non sono pochi perché ci sono avuto tante relazioni è stato un convivere che ancora rimpiangono io ne ho conosciuto uno che era un ragazzo marocchino io ho sempre sentito nei confronti di questo ragazzo questo Abdu che è una persona deliziosa sai cosa c'è di differenza secondo me tra noi e loro e loro poi dire loro diciamo la cultura araba che poi è anche una cultura abbastanza vasta perché per arabo si possono dire tante cose lui è un marocchino musulmano ma musulmano per il modo di dire perché comunque sono un musulmano parigino ha studiato la Sorbonne uno che lavora nel mondo del cinema non ci si può immaginare il classico musulmano però musulmano la sensazione che c'era che la differenza di cultura di fondo era che noi siamo dei nevrotici a me sembrava che loro non siano nevrotici tu hai raccontato un episodio a Parigi di uno scippo che è quasi inventato insomma è come una battuta no voglio dire se uno lo inventa sono stata scippata da un algerino non so chi fosse ma scippata proprio picchiata scippata tra l'altro avevo appena preso una diaria consistente era un film che stavo girando a Parigi avevo dei cash di una certa consistenza nel darmi uno spintone buttando in casa mi ha dato della razzista e se ne batta tu hai gridato sì no io mi ricordo forse ti ricordi meglio di me perché te l'ho raccontato io e quindi insomma avevi fidanzato era in quel periodo per quello lo ricordavo no mi faceva ridere anche il fatto che mi avesse dato la razzista senza che avessi fatto assolutamente niente stavo solo passando un po'